Appreso il via ieri la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino con l'esposizione statica all'aperto lungo i viali dello splendido Parco del Valentino e sarà in programma fino a domenica. Tra i numerosi eventi previsti in questa nuova edizione c'è l'imperdibile esposizione di 40 prototipi esclusivi per la prima volta esposti tutti insieme di carrozziere e designer del calibro di Pininfarina, Giugiaro, Bertone e Digital Design con una vetrina permanente allestita nel cortile del castello durante tutta la durata della manifestazione. Ma a spiccare tra i vari stand al Salone dell'Auto di Torino c'è anche la tecnologia siciliana. La Neutron infatti è presente all'evento come partner tecnico di GFG Style, l'azienda di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro che durante il Salone presenterà ben due prototipi riqualificati elettricamente grazie alla tecnologia Neutron. La Fiat Panda 4x4 è la prima mondiale della spiaggina 4x4, topless, su base Panda dell'85. Aver avuto la possibilità di poter collaborare con una firma mondiale del designer dell'automobilismo rappresenta motivo di orgoglio e prestigio per tutto il team Neutron, ha spiegato Andrea Raffa, presidente della Neutron. Proprio in questa occasione abbiamo installato un sistema di riqualificazione elettrica altamente innovativo dotando entrambi i veicoli con una versione bimotoria a bassa tensione molto compatto che garantisce però prestazioni estreme. Siamo riusciti nell'intento, ha concluso poi il presidente della Neutron, di riqualificare elettricamente i due veicoli mantenendo inalterate le loro caratteristiche principali, compattezza, leggerezza e medesima distribuzione dei pesi. I veicoli riqualificati elettricamente Neutron saranno esposti fino a domenica nell'area mostra prototipi ingresso Ascari ovviamente all'interno del Parco Valentino di Torino. Neutron è la prima azienda italiana ed europea ad essere certificata come costruttore di sistemi di qualificazione elettrica.